Eccoci qua, oggi parliamo di un prodotto che si chiama vetro di Giorgio Grysan, è un vetrificante che si dà sopra, può essere dato soprattutto ai decorativi di Giorgio Grysan, quindi decorativi come istinto, pietra spaccata, istinto cemento naturale, istinto pietra intagliata, spatola stucchi, spirito libero, insomma tutti questi prodotti anche su Giorgio può essere dato dove è richiesta una protezione maggiore rispetto al prodotto in se stesso, diciamo il decorativo in se stesso, è un prodotto che si aggiunge sopra, questo vetro, in questo caso è un vetro lucido ma esiste anche la versione opaca, è un prodottivo acrilico e va utilizzato in tutte quelle parti in cui è richiesta una maggiore protezione come nei bagni oppure nei posti dove insomma c'è maggior passaggio e quindi è richiesta una parete più protetta, è un prodotto valido anche se c'è una versione, un'altra versione di questa volta che è ipervetro che è ancora maggiormente più protettivo e è un prodotto completamente diversi per il vetro che protegge molto di più rispetto al vetro e diventa proprio veramente molto resistente anche alla scaltitura, ipervetro è molto più resistente, però anche il vetro fa insomma la sua parte, è molto facile da utilizzare, si può utilizzare con una spugna oppure con un pennello, è pronto all'uso quindi non va diluito così come lo trovate nella confezione lo potete utilizzare sulle vostre pareti decorate. Giorgio Grysan come sempre mette a disposizione il numero verde che trovate sulla confezione quindi se avete difficoltà nell'applicazione o comunque se avete dei dubbi su questo prodotto o su tutti i prodotti di Giorgio Grysan potete chiamare, telefonare e chiedere al numero verde qualunque tipo di informazione. A presto, se siete interessati a questi contenuti iscrivetevi al canale e rimanete connessi ci saranno altri video che parleranno di prodotti oppure delle applicazioni pratiche in cantiere. Grazie. Grazie.